Scoperto dagli agenti della Polizia Stradale, un venditore di auto abusivo a Sassari, inflitta una multa di oltre 21.000 euro. Dopo un screening dei venditori di auto della provincia, supportato dai dati forniti dalla locale Camera di Commercio, è stato accertato che l'attività di commercio, esercitata da un 27enne di origini sassaresi, era abusiva. Il rivenditore non è in regola con i requisiti morali di onorabilità previsti dal Decreto Legislativo 59 del 2010, una normativa che regola l'esercizio delle attività commerciali subordinandole alla permanenza dei requisiti morali e all'assenza di condanne e misure di sicurezza adottate dall'autorità giudiziaria. Nel corso della verifica è invece emerso che già dal 2018 il venditore di auto non era più in possesso dei requisiti di onorabilità ma continuava ad esercitare la sua attività beneficiando anche delle agevolazioni previste per il trasferimento di proprietà dei veicoli e quindi scattata l'assenzione amministrativa di oltre 21.000 euro e la conseguente chiusura del salone. Sono al vaglio degli inquirenti le ulteriori violazioni amministrative e penali da segnalare alla Procura della Repubblica.